La messa non era possibile averla per Pasqua, le benedizioni uguale, essendo in un paese piccolo che comunque le tradizioni si rispettano e specialmente qui abbiamo una grandissima popolazione di persone anziane rimanere senza benedizione, rimanere senza la tradizione della panina benedetta, insomma era un problema. Allora abbiamo pensato di fare, di realizzare una piccola panina di 100 grammi, di chiamare il nostro prete, la Benedette ci abbiamo messo anche le frasche dell'olivo e insieme all'amministrazione comunale le abbiamo iniziate a distribuire. Un briciolo di tradizione e normalità in questa Pasqua così insolita arriverà così comunque sulle tavole degli abitanti di Talla. In questo momento ci voleva qualcosa che ci ravegrasse un pochino, insomma. 560 le panine che sono state prodotte da un esercizio commerciale del piccolo paese del Casentino e che sono state poi benedette dal parroco Don Michelangelo. Si tratta di appunto un simbolo, una piccola panina che le famiglie possono condividere durante il pranzo di Pasqua con i cibi tradizionali, le uova, il salame eccetera, tutto quello che è la colazione e il pranzo di Pasqua. Ecco, semplicemente per poter condividere un piccolo simbolo di normalità e ringraziamo anche il nostro Don Michelangelo che gentilmente ha benedetto tutte queste numerose panine per tutti i nostri nuclei familiari. Le panine infine sono state distribuite in tutti gli esercizi commerciali del comune rimasti aperti per dare così la possibilità a tutte le famiglie di poterne prendere una per poterla gustare come tradizione vuole la mattina di Pasqua. La panina benedetta è una tradizione, è una tradizione e non averla avuta anche in un periodo così buio, triste, sarebbe stato brutto. Sarà una Pasqua probabilmente più ristretta, quindi con i familiari conviventi e anzi questo è un invito che rinnovo volentieri ai vostri microfoni di limitare la Pasqua ai familiari conviventi, a coloro con cui viviamo insieme quindi non andare a fare la Pasqua magari con i parenti come probabilmente nel passato abbiamo fatto. Lo faremo l'anno prossimo, quest'anno consideriamo che facciamo questo sacrificio per poter fare l'anno prossimo una Pasqua serena con i nostri familiari, che tutti stiamo bene.